Ma la difficoltà in che senso? Sul terreno di gioco? Noi sinceramente non l'abbiamo ancora visto che siamo arrivati e siamo arrivati subito qui quindi non posso dare sul tipo di giudizio è uguale io ho contrato Biroff e mi ha detto che è brutto ma non so non l'ho visto se mi hanno detto che è brutto si scivola ma non l'ho visto neanche da lontano